Fondamentali, fondamentali del tiro con l'arco. Primo punto, il posizionamento, il posizionamento sulla linea di tiro. Intanto il posizionamento inizia da quando prendo l'arco dal suo cavalletto per andare sulla linea di tiro. Prendo l'arco, stringo con forza l'impugnatura, questo è un segno, un segno fisico che attiva la mia determinazione. La mia determinazione parte da quando vado al posizionamento. Inserisco la mia dragona, mi posiziono sulla linea di tiro, piedi paralleli o leggermente divaricati, paralleli alla linea di tiro. Dondolo leggermente, spalle rilassate, addominali leggermente tesi e rivolgo lo sguardo verso il balsale. Questo è il posizionamento. Peso equamente distribuito sui due piedi, magari leggermente sulle punte. Molto importante partire determinati. E' uno.